Stamattina molto presto ho chiamato Gino Sorbillo al quale ho espresso la vicinanza e la solidarietà mia e della stragrande maggioranza dei napoletani che è fatta di persone per bene. Questi criminali, questi delinquenti non passeranno, si devono arrendere, devono sapere che ormai il riscatto di Napoli passa attraverso l'onestà, la cultura e la ribellione ad ogni forma di violenza. Ovviamente la solidarietà che oggi esprimiamo in modo forte a Gino Sorbillo per quello che è accaduto stanotte a via dei tribunali, le stendiamo a tutti gli imprenditori, operatori commerciali e tutte le persone che quotidianamente sono vittime di una violenza che tutti insieme dobbiamo contrastare. Poi siamo ancora in attesa se posso aggiungere delle forze di polizia che per ben due volte il ministro dell'interno che è venuto a Napoli aveva promesso ma che io personalmente non ho ancora visto se non solo nelle occasioni in cui qualche autorevole esponente del governo fa visita nelle città del nostro paese.